Consolidate la pastorale familiare, ascoltate e guidate i vostri sacerdoti, formate i laici perché siano collaboratori dell'annuncio della buona novella nella società in cui vivono e sostenete la missionarietà delle vostre comunità cristiane nelle periferie esistenziali. Sono gli inviti che Papa Francesco ha rivolto ai Vescovi di Portolico, ricevuti nel corso della loro visita ad Limina nel discorso consegnato. I gravi problemi sociali, dalla crisi economica alla migrazione, dalla violenza domestica alla disoccupazione, minacciano la famiglia anche nell'isola caraibica e il Papa ha richiamato l'attenzione dei Vescovi sul valore e la bellezza del matrimonio. Ed ha ricordato come la complementarietà di uomo e donna, finalizzata alla comunione e alla generazione, si è oggi messa in discussione dalla cosiddetta ideologia di genere in nome di una società che dovrebbe essere più libera e giusta. Bisogna perciò prendersi cura del sacramento del matrimonio, segno dell'amore di Dio per l'umanità. I fedeli laici formati nelle diocesi e inseriti in movimenti associazioni, ha concluso Papa Francesco, sono chiamati a collaborare per annunciare la buona novella in tutti gli ambienti, anche in quelli più ostili e lontani dalla chiesa.